Un'altra giornata intensa al confine Vai Ci vola Chi è il prossimo? Oh mazza oh si è bella attrezzata adesso eh caporale Vediamo se becchiamo qualcuno Facciamo qualche bello scambio Ah qua c'era qualche aggiornamento No tutto a posto lì niente lettere Buongiorno Ha il vetro rotto lei Comandino a te Allora come ti chiami Mi sono alleato Allenato Dai dai Allora Devo dire che non entri Perché qua abbiamo un problema Porti qualcosa con te Allora 1230 Il peso è giusto Allora c'hai un vetro rotto Gomme a posto Un vetro rotto solo vedo Ok un vetro rotto Però non puoi entrare perché Allora un vetro rotto Non funzionante Non mi sembra che sei illegale GC2 Ok giusto A posto Niente Ti devo mandare a casa Mi dispiace A casa Ma perché cambiano voce? Cambiano voce pure Welcome to Agaristan Veicolo nero Attenzione Attenzione Gomme Sole Attenzione Questo è un criminale Lo so già Ron Ron Corrisponde Sette 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 Maggio Ah siamo a maggio Attenzione Siamo a maggio Ora Ron Ron Numero targa Vediamo Vuoi fare uno scambio? Oh vediamo che scambio Vuoi fare Basta che non sia contrabbando Compra Oh Corte igienica Sì 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 Vado Quanto la vendo Vado C'ho sto Grande successo Qui E comprare Vende Ah no vende 12 No no Come sia un po' caro amico Il resto non mi interessa Allora Prendiamo un po' Il scarico Ok Eh lo vedremo Se sto perdendo tempo Qua c'è qualcosa di strano No Sembra tutto a posto Però qua stiamo cercando Stiamo cercando da un po' Questo veicolo nero Oh 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 Ecco beccato L'abbiamo beccato Raga L'abbiamo beccato L'abbiamo beccato Solo che non so come aprirlo qua Non so come aprirlo qua Allora Strebbe essere armato Oh Attenzione Sembra anche che L'abbia nascosto pure qua Quanta roba c'ha questo Stanica di alcol Attenzione Questo c'ha un po' di roba Illegale Oh Dove scappi Oh Vai 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 Fermiamolo Fermiamolo Lo sapevo io che scappava quello Vai Comandino il cavolo Vai Accendi il veicolo Vai Questo ci scappa Ammazza Io lo devo tenere puntato Ho visto troppe cose illegali Mamma mia Adesso lo becchiamo Adesso lo becchiamo Però l'abbiamo fatto male Abbiamo sparato già Quindi non E' un po' spaventato già da noi Non ha Grandi Aspettative di vita O muore O si fa arrestare Mannaggia Ma chi è che riparo ogni volta la sbarra Questo me lo sono sempre chiesto Chi mi riparo la sbarra Vabbè ci sono diecimila colleghi Mancheresse che non mi riparano la sbarra Oh però corre eh questo Vedete che ci sfugge Ecco perché hai bisogno dell'auto Poderac Ti stimola a comprare l'auto Perché sai che Prima o poi Potresti averne bisogno Amico mio Fermo Polizia Fermo Fermo Polizia Fuori Arrestato Esci Mannaggia Te Ovunque qua Abbiamo trovato Ci sono di Ok ok Adesso torno Adesso torno Aspettate che qua Voglio capire Cosa aveva Volevo prendermi Sta roba Ok Poi c'era qua anche Se non vado errato Ah no Qua Aspetta 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 Anzi la pala Posso usare magari Ecco qua Ok Preso E Forse la ruota Vabbè no niente Andiamo Torniamo indietro adesso Abbiamo dei Visitatori Accendi il motore Ritorniamo in base Oddio la centrale di polizia è qua Però vabbè Fa niente Ci spareranno raga Prima di andare Probabile Ci attaccheranno Ci attaccano sempre Eccoli Oh no Questi sono ben armati Questi sono ben armati Raga Niente Lasciateli stare Quelli ben armati Ok Siamo arrivati in frontiera Spegniamo Tutto E Ritorniamo al nostro lavoro Avanti il prossimo Ok Chiediamo a quello Se Aspetta Mettiamo in carcere Il tipo Nel frattempo Dov'è Com'è che si apre qua La portiera In carcere Trasferisci in prigione Qua mettiamo La roba Dentro Il La tanica di alcol Perfetto Allora Tu di dove sei? Vengo da Inara Cosa voglio scambiare? Pacco di sigaret Vodka Sei un po' caro amico Se no la prendevo Dammi documenti Grazie Porti un frigorifero Mi chiami ad En 31 giugno Giugno Perfetto Ottobre Passaporto confermato Td Vd Allora Porti effettivamente Un solo frigorifero Mi sembra di vedere Vediamo se lo Posso aprire Beh mi fido Mi fido Mi fido Non è mica incontra un bandiere No Ok Qua a posto La macchina Sembra a posto Ti faccio andare Dai scusami Se ti ho fatto Se ti ho fatto ritardare Oddio Non ho visto Il motivo del visto Però vediamo Speriamo di aver fatto giusto Raga Vediamo Ok Per fortuna Abbiamo fatto giusto Buongiorno Come sta? Unione di rally Brutta cosa Unione di rally Settembre Settembre Ok 990 al carico Massimo Lei 930 Perfetto Porta qualcosa Come bagagliaio Allora 1 2 3 Vediamo quanti bagagli Ha dichiarato 4 5 Rapporto di spes... No scusatemi Bagagli 5 Detergente 2 Come mai 2? Il carico non è corretto? No ce l'hai qua Gli altri 2 Ok Vediamo Porti qualche roba di strano No Velicolo Sembra pure sano Anche tu Sei il benvenuto Approvato Raga Perché ho tutto Sicuro Quando sei troppo sicuro Minimo quello doveva essere arrestato Vediamo Se ho fatto bene Sono un pro No Doveva essere respinto Perché? Cos'è che aveva di sbagliato? Ministri rotti Dove? Ah gli specchietti Paravorti mancanti No non l'avevo visto Niente Eh Avevo preso troppo quella dimestichezza No? Quella sicurezza Eccessiva Che fa troppo male Allora Salve Salve a lei Buongiorno Che abbiamo qua? Ramil Maggio Attento che scade tra pochissimo Regno degli archei Questo a posto Ramil Ramil Ok 2890 Qui 2500 Vediamo solo se Wow Quanta roba Ehm Come si fa a prendere? Aspetta Ok Prima cosa Libera Ah Oddio Qua non ho Ah ecco perché non mi faceva prendere Non l'avevo liberato Ok Adesso posso prendere Ok Eh vediamo se sto perdendo tempo Vediamo Vediamo Quando dicono così Controlliamo Uno Controlliamo Se c'è qualche cosa di strano Uno Due Ok A posto Vediamo quanto è dichiarato Tre Sacca Sette di miele Tre Cemento Sette Sacco di caffè Due Allora Effettivamente Forse sto perdendo tempo Hai ragione Forse sto perdendo tempo Chiudiamo Ruote Sembrano a posto Specchietti Ce li hai Paraurti Non mi sembra che Ma c'è Tutto a posto Amico Ruote Vediamo Scusatemi I controlli Che devo fare Rapporto di ispezione Rapporto di ispezione Gommalici Finestrini Specchietti Paraurti Ma c'è Carrozzeria Danneggiata No Sembra tutto a posto No Strabico Ah no Abbiamo una gomma a terra Gomma liscia Dai Una gomma liscia Ce l'abbiamo Però sei approvato Amico Sei approvato Benvenuto In Agaristan Tranquillo Vai Tranquillo Vai Vai Sta facendo Quello Ah sta sistemando La sua cabinella E ora Che vai a riposare Pure Andiamo in carcere Vediamo Quanta gente Abbiamo in carcere Qua Oddio Qua Qua era aperta La 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 Sapete che vi dico Vado Siccome Vado a portare La merce illegale Va Magari mi assaltano pure A proposito di assalto Non so se mi conviene Lasciarlo così distrutto O se ripararlo Capito Lo riparo Magari ci stanno ancora Quei tipi lì Sulla mappa Sono ancora indicati Vediamo Se sono Non sono difficile Potrei anche Pensare di farlo Fuori Vediamo se li riesco a investire Sono qua loro Allora Vediamo Ecco Ci hanno messo l'albero Ci hanno messo l'albero I tipi Ok Ok Ci hanno messo l'albero Andiamo Vediamo Ci hanno L'agguato Questo Ok Fatto fuori Ci hanno messo l'albero Questa volta Andiamoci dietro l'albero Una speranza che non ci attaccano Ok Fatti fuori tutti Ah no no Non tutti Proprio Ok Adesso si tutti Ok Allora Dobbiamo togliere sto albero Sperando di avere Un'accetta Per farlo Ok Oddio ma che sta facendo quello Questa è la prima volta Che ci mettono un tronco Addirittura Vediamo questi Che ci hanno Se possiamo Rubare Le munizioni Le rubiamo Speziona Cartucce Oh Guarda ci servono un sacco Grazie Grazie Per avermi attaccato Oh Per il mitra Mi servono pure un botto Dimmi che anche tu c'è il mitra No Cartucce Del cavolo Mi ho fatto fuori tutti A posto Raga ma sto diventando Un pro Su Gli assalti Oddio e mo Mo questo è un bel guaio Questa cosa che stanno facendo i tipi Vabbè lasciamo stare Lasciamo stare Sarebbe da arrestare quello Ma non penso si possono arrestare i civili Quindi avete visto i tipi lì Non solo Non ti hanno fatto Cioè però se ritorni Ti mettono l'albero pure Così sei costretto a fermarti Io non volevo affrontarti Dove essere sincero Proprio Però Meno costretto A posto Gli diciamo al tipo qua Magari Se ce lo ripara Se ha voglia Ce l'hanno un po' distrutto Il nostro veicolo Non lo ripari Per favore Grazie Aldamuro Anche a te Allora raga Costa 600 euro A giornale Eh no costa un botto Ma me li tengo questi soldi Raga Me li tengo per altre cose In futuro Spero Che mi servirà Ma non possiamo fare niente Con 700 dollari A parte Prendere magari qualche munizione Ma Lascerei Va bene dai Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo video Qui su Contraband Police Simulator E noi ci vediamo